L'altra notte che sogno! Entravi in cucina e puff! Era scomparsa! Dentro c'erano gli uomini della farina che vivono nelle nuvole e fanno il pane bello dorato. La pasta era la più morbida dell'universo. Al momento mi scoprivano! Il giorno dopo gli uomini della farina non c'erano più, ma il pane l'avevano lasciato. Il pane del mulino! Bello morbido, buono! Buoni giorno dopo giorno, i nuovi filoni da tavola e tutto il fragrante mondo dei pani. Mulino Bianco, scegli un mondo genuino.